Basta! Balla! Balla! Non mi riconosci? Mi ha parlato a Papattu. Lui è venuto a prenderti perché vuole stare un po' di tempo con te. Mi dici che cosa ti hanno detto di zii di me? Che stai in prigione. E basta. A Bari, domani a mezzogiorno. Questa non mi serve, mi sono portato mio figlio. Un bambino è meglio di una pistola. Ma ti sei piaciuta dosso un'altra volta? Questa è acqua. Cos'è quella invece? Se quella è acqua, questa è farina. La persona che devi trovare. Che ti ha fatto? Ci ha fatto andare in galera a me, a Vito e a Totò. Scusa. Dammi una mano, dai. Ci buttiamo insieme. Uno. Due. Tre. Pensa quanti giorni ci ha rubato questo. Un altro di giorni, allora. Diciamolo sì. Diciamolo sì. Contro di giorni.